Da tempo sono diventati un incubo nel Cilento per i danni che causano i raccolti e anche perché spesso costituiscono un pericolo per l'incolumità pubblica, per i loro attraversamenti improvvisi lungo le strade del territorio. E poi c'è lei Peppa, così l'hanno ribattezzata, un cinghiale di appena quattro mesi che i Carmine e Antonio De Cristofaro hanno praticamente adottato a Mercato Cilento, piccola frazione del comune di Perdifumo. Infatti dal momento in cui è entrata nella stala del loro asinello non è più andata via, nonostante i due fratelli cilentani abbiano cercato più volte di lasciarla andare. Ormai in paese tutti li conoscono come l'asinello e il cinghiale e ogni mattina quando il carretto con l'asinello si muove per le stradine del borgo cilentano lei si mette dietro e li segue passo dopo passo, tanto da essere diventata ormai una vera e propria star. Un'attrazione fenomenale proprio, perché vedendo in mezzo alla strada, in mezzo alla gente si attirano tutti a guardarlo, era come un cagnolino. Tranquillissima, sta con i bambini, sta con tutti insomma, quindi non c'è paura di pericolo. Io perciò lo porto pure dietro perché giusto per farlo vedere pure alla gente che i cinghiali non sono, non è una razza che dà fastidio oppure fa paura alla gente. Questo lo accarezzano tutti e quindi è buonissimo, capito?